Buona serata, nuova edizione del TV, giornale di Telestense. Come sempre diverse le notizie di cui ci occuperemo. Vi daremo gli aggiornamenti legati al Covid. Purtroppo ancora due decessi nel Ferrarese, 16 nuovi ricoveri in ospedale. Mentre invece parleremo anche di cronaca, assalti al Bancomat nel Ferrarese. Ci sono due arresti, vedremo quello che è successo nelle ultime ore. Ci occuperemo però anche di notizie positive, per fortuna. Arrivano da Confindustria Emilia. Sappiamo che per le imprese è stato un anno molto difficile, ma arrivano i primi timidi segnali di ripresa e sentiremo nel dettaglio a che percentuali ambiscono per questo 2021. Cominciamo subito parlando della ricorrenza del giorno. Oggi come sapete l'Italia Unita festeggia 160 anni. Il 17 marzo di 160 anni fa la nostra nazione si unificava sotto un'unica bandiera. E proprio le bandiere oggi hanno colorato la facciata della prefettura di Ferrara. Causa pandemia zona rossa ovviamente non si è potuto celebrare in alcun modo nessun tipo di iniziativa, ma il prefetto ha voluto mandare un messaggio alla cittadinanza. Lo sentiamo. Il mio pensiero nel lanciare il messaggio era ai 150 anni di dieci anni fa e probabilmente tutti ricordiamo dieci anni fa nel 2011 le difficoltà in cui in quel momento pure il Paese per altre ragioni si trovava. Era un momento nero in cui l'Italia stava attraversando forse il periodo più buio sul piano della crisi economica e c'era il rischio del default. Oggi siamo in un contesto per certi versi analogo. È una situazione di grande emergenza sanitaria ma anche di emergenza sociale e di emergenza economica. E questo mi ha portato a mettere, come dire, queste due date a distanza di dieci anni, questo decennale, i 160 anni, per trovare attraverso un approfondimento storico anche l'occasione di sottolineare la forza che ha questa nostra nazione, questo nostro Stato, ricordando da dove veniamo, ricordando gli uomini del nostro risorgimento e quello che più volte anche il capo dello Stato Sergio Mattarella ha più volte evidenziato, cioè il nesso ideale che c'è tra il risorgimento, la resistenza, la Repubblica nei valori espressi con la carta costituzionale. Oltre alle celebrazioni di questo importante anniversario, l'attualità Covid impone al prefetto di Ferrara di fare appello al senso di responsabilità e il civismo dei ferraresi. Mercoledì c'è stato un incontro in cui è stato confermato l'impegno delle forze dell'ordine sul territorio estense. Rinforzeremo notevolmente i controlli, ovviamente con un taglio differente che ti è in conto del fatto che in zona rossa, come sappiamo tutti quanti, c'è una forte limitazione sulla mobilità che è consentita in ambito comunale solo a determinate condizioni, quindi non solo limiti negli spostamenti infracomunali ma limiti negli spostamenti all'interno dello stesso comune, le attenzioni da parte delle forze di polizia saranno massime e con uno scopo, un obiettivo ultimo che è assolutamente quello di contenere una curva epidemiologica che anche in provincia di Ferraga è cresciuta in maniera esponenziale. La Polizia di Stato intanto ha fatto diverse multe martedì in tema di misure anticontagio violate, principalmente stranieri come chi ha visitato senza permesso la propria fidanzata che stava bevendo su una panchina in un parco oppure i membri di un assembramento prolungato sempre in un'area verde della città. E adesso come anticipato vediamo quelli che sono i numeri del Covid di questa giornata, continuano ad essere importanti i numeri dell'emergenza coronavirus sul territorio estense e anche a livello emiliano-romagnolo. E intanto proseguono le vaccinazioni, nel Ferrarese lo stop temporaneo di AstraZeneca non sembra aver avuto effetti importanti, ma per i dettagli sentiamo il servizio. Aumentano nel Ferrarese sia i nuovi positivi sia i nuovi guariti. A fronte anche di un innalzamento importante dei tamponi eseguiti rispetto al giorno precedente crescono quindi nuovi guariti, 111 persone e anche nuovi contagi, 173 due decessi nel Ferrarese per complicazioni apportate da Covid, entrambe donne di 82-88 anni, 50 le vittime nel resto della regione, 16 ricoveri all'ospedale di Cona e la situazione è rimasta invariata rispetto a martedì nelle terapie intensive Covid ferraresi. Reparti quasi saturi in questa fase del piano pandemico negli ospedali ferraresi in cui sono ricoverati i pazienti affetti da coronavirus. Un trend simile si registra in regione dove l'aggiornamento in Emilia-Romagna vede su quasi 37.500 tamponi effettuati, più di 2.000 nuovi positivi e 1.335 guariti. Capitolo vaccini, 208.000 circa. Gli emiliano-romagnoli immunizzati, quasi il 5% della popolazione totale, stessa media nel Ferrarese dove gli immunizzati sono circa 17.000. Territori estensi in cui l'impatto dello stop temporaneo e cautelativo di AstraZeneca, atteso giovedì il pronunciamento dell'EMA che potrebbe sbloccare la situazione, questo sembrerebbe non aver abbassato significativamente le somministrazioni giornaliere. In frasettimana infatti si viaggiava su una media di 1.600 dosi somministrate quotidianamente nel Ferrarese. Martedì, il giorno dopo la decisione di AIFA di sospendere momentaneamente il vaccino anglo-svedese, le vaccinazioni nel Ferrarese sono state 1.500. Rimaniamo in ambito sanitario, ma questa volta parliamo di una notizia che arriva dal Sant'Anna, migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da tumore al colon. Parte con questo obiettivo il nuovo approccio chirurgico applicato solo in pochi centri d'Italia e che vede tra questi l'ospedale Sant'Anna di Cona. Attraverso una tecnica operativa innovativa è possibile lasciare inalterate le funzionalità dell'apparato senza ricorrere al sacchetto permanente. L'equipe chirurgica che vediamo in questa foto è composta dal professor Paolo Carcofforo e dai dottori Daniele Marcello, Giorgio Sogliani e da Simona Ascanelli. Intanto vediamo anche la dottoressa Paola Bardasi, commissario straordinario del Sant'Anna che dichiara la ricerca rappresenta il volano per garantire un'assistenza sanitaria migliore. Questo aspetto caratterizza l'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara dove didattica, ricerca e assistenza si integrano come prioritaria mission dell'ospedale. Intanto l'assessore regionale alle politiche per la salute Raffaele Donini a sua volta sottolinea quando parliamo di cancro il tema prioritario è quello di intervenire per salvare la vita e guarire il paziente ma contestualmente è importante soprattutto per determinate patologie che richiedono interventi demolitivi cercare di garantirgli anche la qualità di vita successiva. Adesso invece passiamo alla cronaca, assalti ai Bancomat, arrestate ieri notte due persone accusate di far parte di una banda dedita a queste azioni. Avrebbero colpito un anno fa anche le filiali delle poste di San Bartolomeo e Biper di Bondeno. Vediamo. Arrestati e portati in carcere due membri di una banda specializzata negli assalti Lampo ai Bancomat. Le operazioni infatti duravano al massimo cinque minuti ed è stata così eseguita l'ordinanza del GIP Vartan Giacomelli nell'ambito dell'operazione Neon 2. Il basista nel ferrarese un 33enne di Vigarano Mainarda appassionato di palestra e venditori in una concessionaria d'auto in città. L'altro fermato, un 49enne senza fissa dimora e fermato nel territorio romano, entrambi di origine romena e con dei precedenti con la giustizia accusati di essere gli autori di due furti di Bancomat commessi in provincia di Ferrara più di un anno fa nel febbraio del 2020. Abbiamo cercato di dare una risposta efficace a questo fenomeno che è purtroppo diffuso e che destra grandi allarme sociali. I furti dei Bancomat sono un reato abbastanza grave. In merito abbiamo eseguito questo provvedimento restrittivo in carcere nei confronti di due rumeni, componenti di una banda che ha commesso due furti di Bancomat, uno il 13 febbraio del 2020 e un altro il 19 febbraio. I furti sono stati commessi con la tecnica dello strappo, uno ai danni dell'ufficio postale di San Bartolomeo in Bosco e un altro invece ai danni del Banca Popolare dell'Emilia Romagna a Bondeno. La tecnica era di lanciare a forte velocità un mezzo come ariete e con un furgone sradicarlo con una fune o una catena caricandolo poi a sua volta il Bancomat sul mezzo e portandolo via. Nel furto di San Bartolomeo il bottino è stato magro perché il Bancomat non conteneva nulla. Invece per quello di Bondeno c'è stato un provento illescito di 22 mila euro circa. Secondo gli investigatori coordinati dal PM Stefano Longhi la banda era composta da 4 o 5 persone e non è da escludere che gli altri uomini oltre i due fermati venissero dalla Romania apposta per mettere a segno questi colpi. Infatti i carabinieri di Ferrara sono in contatto con i colleghi romeni per proseguire nelle indagini. Indagini non facili soprattutto all'inizio un anno fa rese appunto difficili a causa del lockdown che ha bloccato anche gli spostamenti, le mosse degli indagati i quali probabilmente stavano architettando anche altri colpi. E adesso invece parliamo di economia su scala regionale perché come è noto appunto il Covid ha messo in ginocchio numerose aziende ma per il 2021 Confindustria Emilia vede i primi segnali di ripresa. Vediamo come. Confindustria Emilia ha presentato il quinto osservatorio relativo al primo bimestre 2021 sull'emergenza Covid-19. Per le imprese di Bologna, Modena e Ferrara la situazione non è erosia ma qualche segnale positivo si avverte. Nel 2021 le aziende si attendono mediamente una crescita di fatturato del 7% dopo un calo medio pari all'11% nel 2020. Il portafoglio ordine a febbraio cala su base annua di almeno il 15% per il 35% delle aziende ma a settembre calava per il 68%. Scende anche il ricorso alla cassa integrazione che nel primo bimestre ha riguardato il 23% delle imprese. Oggi lo smart working riguarda il 52% dei dipendenti ma il 31% delle imprese prevede di ricorrervi anche dopo la pandemia. La pandemia inoltre ha dato anche una spinta sul commercio digitale. Il 21,7% è investito per sviluppare o potenziare le piattaforme e-commerce. Sul fronte sicurezza Confindustria conta un 37% di aziende impegnate in attività di screening sui dipendenti e 1.229 addetti contagiati. Il 2,3% dei 54.240 al lavoro nelle aziende del campione. In sintesi, secondo Confindustria Emilia, per il 2021 qualche segnale positivo si inizia a vedere. E adesso invece parliamo di università perché sono 39 i neolaureati in farmacia di Unife che ieri online hanno vissuto con le loro famiglie il momento emozionante della proclamazione da parte della Commissione. Sette docenti del corso della laurea magistrale in farmacia, anch'essi in collegamento via web. Il coordinatore del corso di laurea in farmacia, ovvero il professor Stefano Manfredini, ricorda che si tratta di una procedura ormai collaudata che permette ai laureati di sostenere prima il colloquio sulle tesi e successivamente a gruppi di tre alla volta la proclamazione della laurea, preceduta da una presentazione di pochi minuti che ognuno di loro ha fatto della propria tesi, collegandosi online con la Commissione di laurea ad un orario preciso e secondo un ordine prefissato. La consegna delle pergamene di laurea, conclude il professor Manfredini, avverrà in un momento successivo secondo tempi e modalità che verranno stabiliti dall'Ateneo e che noi ci auguriamo possa avvenire in presenza. Adesso invece parliamo di rapporti commerciali, tema che si è discusso questa mattina in Camera di Commercio tra l'imprenditoria ferrarese e quella bulgara e i dettagli li sentiamo in questo servizio. Il crescente impegno ad attrarre sempre più nuovi investitori stranieri, i buoni risultati nell'export e la ripresa dell'occupazione, ma anche la competitività delle imprese ferraresi e le eccellenze della meccanica, dell'alimentare e dei prodotti chimici e tessili. Si è discusso anche di questo nel corso dell'incontro svoltosi in Camera di Commercio tra il Console Generale della Repubblica di Bulgaria a Milano, Tania Dimitrova, e il commissario straordinario dell'ente di Largo Castello, Paolo Govoni, affiancato dal segretario generale Mauro Giannattasio. Illustrate in particolare le opportunità normative fiscali e le offerte agli insediamenti aziendali in Bulgaria, oltre che per rafforzare le occasioni di soggiorno e di scambio commerciale. Fattori sui quali le imprese ferraresi possono contare per entrare nel mercato della Bulgaria, un paese in grande sviluppo che nei prossimi mesi potrebbe aprire scenari economici ancora più importanti. La Bulgaria rappresenta storicamente un territorio di riferimento per la nostra provincia. Nel 2019, infatti, le imprese ferraresi hanno esportato in questo paese merci per oltre 6 milioni di euro, più 20% rispetto all'anno precedente. L'importanza delle relazioni esistenti tra la provincia di Ferrara e la Bulgaria è testimoniata anche dalla presenza nel territorio ferrarese di oltre 200 tra titolari di imprese individuali e amministratori di società. E torniamo a occuparci del prefetto Michele Campanaro, in questo caso però per evidenziare che ha incontrato a Palazzo Don Giulio d'Este il neopresidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Stefano Calderoni, accompagnato dal direttore generale Mauro Monti. Nel corso del cordiale incontro, il presidente Calderoni, a capo di uno dei più importanti consorzi di bonifica d'Italia, ha illustrato al rappresentante del governo i punti qualificanti del proprio mandato appena iniziato, dai temi del dissesto del territorio ai cambiamenti climatici e la gestione della risorsa idrica e ancora al patto di collaborazione con la pubblica amministrazione e al nuovo progetto di comunicazione digitale verso aziende e cittadini. Il prefetto Campanaro ha così commentato la migliore bonifica è quella che si sviluppa in un contesto di reale sinergia tra pubblico e privato che da sempre è presente in questo territorio e qualifica l'azione del più importante consorzio provinciale. Condivido i punti qualificanti del programma che il presidente Calderoni ha voluto porre al centro del proprio mandato e che mi ha oggi presentato a ulteriore conferma dell'unità di intenti tra enti e istituzioni preposte su piani diversi alla difesa del territorio in uno spirito di fattiva e leale collaborazione. E al termine dell'incontro il prefetto Campanaro ha formulato al presidente Calderoni i migliori auguri di buon lavoro. Adesso invece troviamo occuparci dell'ultima puntata di Match dove si è parlato della fase finale dei premi Fair Play Valentino Galeotti 2020 del Panathone Club Ferrara, protagonista appunto di una serata speciale che si è tenuta lunedì sera e di cui ve ne mostriamo un estratto. Prima di me al Panathone di Ferrara sono stati tanti gli illustri personaggi che hanno ricoperto il ruolo di presidente. Ma questa carica naturalmente la più importante per noi è stata quella che è stata di Valentino Galeotti che è stato il presidente e che ha lasciato un segno indelebile. Che cosa ha fatto il nostro club? Ha voluto appunto ringraziarlo di questo e ha voluto dedicargli la serata più importante che normalmente noi facciamo che è quella dei premi Panathone. Infatti da quest'anno scorso il premio si chiama premio Fair Play Valentino Galeotti. Abbiamo voluto dare risalto evidenziando un ruolo etico del personaggio o dei personaggi che abbiamo premiato questa sera. Quindi noi abbiamo dedicato a tre, quattro personaggi perché è un personaggio e doppio, diciamo, questo premio di questa sera in modo particolare poi con delle motivazioni molto speciali. E queste sono le parole di Luciana Pareschi, appunto presidente del Panathone Club di Ferrara di cui si è parlato lunedì sera. Mentre vi ricordo che il prossimo appuntamento con Match sarà sabato dalle 17.30. Vi ricordo che sabato la SPAL sarà impegnata contro il Cittadella e commenteremo come sempre in diretta la partita. Adesso invece parliamo di un appuntamento per venerdì 19 marzo, festa di San Giuseppe, come sappiamo. Ebbene l'Arcivescovo celebrerà alle 17.30 di questa giornata la Santa Messa insieme ai sacerdoti del vicariato Santa Polinare Vescovo e Martire presso la chiesa parrocchiale di Iolanda di Savoia, intitolata proprio allo sposo della Beata Vergine Maria. Si tratta di un'occasione molto speciale poiché racchiude in sé diversi significati. Rimarca l'importanza dell'anno dedicato a San Giuseppe, 8 dicembre 2020-8 dicembre 2021, che il Papa ha illustrato nella sua lettera apostolica Patris Corde, in cui come sfondo c'è la pandemia da Covid-19 che, come scrive appunto Papa Francesco, ci ha fatto comprendere l'importanza delle persone comuni, quelle che lontane dalla ribalta esercitano ogni giorno pazienza proprio come San Giuseppe. L'uomo che passa inosservato, l'uomo della presenza quotidiana discreta e nascosta. E ricordiamo che inoltre l'occasione sarà quella di celebrare il trigesimo di Don Mauro Benazzi, parroco di Iolanda, e le contane anche scomparso l'11 febbraio scorso all'età di 65 anni. Adesso invece diamo un'occhiata ai programmi tv della serata per questo 17 marzo. Vi ricordo alle 20, tutte le stesse, appuntamento con Campagna Amica News, in collaborazione con Coldiretti Ferrara. In questa puntata dà la necessità di creare filiere e accordi nel comparto dei cereali per valorizzare produzione di qualità al problema delle nutrie che invadono campi e argini nei terreni agricoli. E poi ancora gli webinar organizzati dai giovani coltivatori, la formazione dedicata agli agriturismi e le novità dei mercati di Campagna Amica a Ferrara. E a seguire alle 21.30 avremo una puntata di Con i piedi per terra oggi. Argomento principale di questa puntata è la riforma verde del Green Deal europeo Farm to Fork, dalla fattoria alla forchetta. È il flucro appunto di questa politica agricola comune che prevede impatto climatico zero, riduzione di agrofarmaci, aumento delle coltivazioni biologiche, sostenibilità ambientale e biodiversità. Ma le imprese agricole italiane sono pronte a questa rivoluzione verde chiesta e incentivata con importanti finanziamenti dall'Unione Europea? Ne parleremo con l'europarlamentare Paolo De Castro, con Alessio Mammi, assessore all'agricoltura e agroalimentare caccia e pesca della regione Emilia Romagna e Mauro Tonello, presidente della società italiana Sementi. Questi appunto gli appuntamenti della serata su Telestense. Vi ricordo come sempre a telestense.it e i nostri canali social per queste e altre notizie. Siamo veramente in chiusura, grazie dunque per averci seguito e a tutti gli auguri di una buona serata. Grazie a tutti.